Diritti per le donne, a partire da quello dell'aborto, che non può e non deve essere messo in discussione. Su questo hanno puntato gli studenti che hanno manifestato nella mattinata di sabato in Piazza Marconi, primo evento organizzato dal neonato collettivo Rane e Ribelli, movimento transfeminista che si oppone a qualsiasi tipo di oppressione. Oggi siamo qua per fare questa prima nostra manifestazione, primissima, infatti siamo molto agitati, e siamo qua per parlare del diritto delle donne alla propria autodeterminazione. Vogliamo informare, fare memoria storica per far capire come le donne hanno sempre subito una forte oppressione giuridica, sociale, finanziaria, culturale. Ma la voce del collettivo è anche a sostegno delle donne iraniane che vivono in una situazione di grande oppressione. Quello che è anche un contesto di oppressione terribile fuori dall'Occidente, che a noi può veramente sembrare qualcosa di fuori dai nostri schemi. Però dobbiamo farci conti, ecco, purtroppo.